Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'applicazione OneFootball, la migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda le news e le notizie sportive, che trovate come sempre qui sotto in descrizione. Quindi mi raccomando ragazzi, scaricatela OneFootball. OneFootball che tra l'altro mi ha dato una grossa mano, perché tra gli eventuali acquisti del Parma in questo momento, spero che mi stia mettendo a fuoco, ti prego, mettimi a fuoco, ti prego. Ok, perché è già la seconda volta che sto facendo sto video ragazzi, perché quella di prima non mi aveva messo a fuoco, speriamo che stavolta l'abbia fatto. Tra gli eventuali acquisti del Parma ci sarebbe un nome che in realtà noi tifosi del Parma già conosciamo, cioè il nome è quello di Omar El Khaduri. Omar El Khaduri, giocatore marocchino, ex di, ve lo dico perché ce l'ho qua a fianco, di Napoli, di Brescia, di Torino e di Empoli. Attualmente al Pauk Salonico. Perché noi tifosi del Parma lo conosciamo già? Ed è perché, secondo il mio punto di vista, questo è un acquisto assolutamente da non fare. Partiamo da un presupposto che io credo che tecnicamente El Khaduri sia un bel giocatore, sia bravo, sia duttile, ad Aversa Pia sono un sacco di giocatori duttili, maggiormente nella zona di centrocampo. El Khaduri, Kuzka, secondo me, bel duetto di centrocampo. Appunto, tecnicamente è un bel giocatore, è ancora giovane perché è un classe, ve lo dico subito, un classe 90, alla fine ha più o meno la mia età, quindi è ancora giovane e può dare ancora qualcosa al calcio italiano perché è sempre stata l'eterna promessa, adesso sboccia, adesso sboccia, adesso sboccia e non è mai sbocciato. Ma appunto perché noi a Parma già lo conosciamo e perché, secondo me, non è da acquistare. Non è da acquistare perché qualche anno fa, quando El Khaduri giocava a Brescia, il Parma l'aveva praticamente preso, era praticamente un nuovo giocatore del Parma. Erano stati offerti 5 milioni di euro al Brescia per lui, 5 milioni, mica pizze e figli ragazzi, 5 milioni di euro. C'era già l'accordo col giocatore e mancavano, diciamo, le firme, mancavano appunto le visite mediche e tutte queste cose. Ma in quel periodo, in quell'istante, mentre il Parma stava raggiungendo un accordo per lui, spunta fuori la Juventus. Spunta fuori la Juve che vuole assolutamente acquistarlo, manda osservatori per vederlo, chiede informazioni al Brescia e il giocatore inizia a tentennare, inizia a dire, ma non so se voglio venire al Parma perché c'è la Juventus che mi sta chiamando, non lo so, insomma, per un mese intero lo corteggiamo finché non ci rompiamo le scatole, diciamo, basta, il Khaduri basta, vai alla Juventus, se vuoi appunto andare alla Juve, vai alla Juventus, ci facciamo l'ultimatum, lui dice, no, non mi interessa, voglio aspettare la Juve. Bene, tanti saluti e grazie. Il Parma si defila, anche la Juventus però si defila, però dopo un po' arriva, dopo pochissimo tempo arriva il Napoli che lo acquista. E quindi buon per lui perché andare a giocare nel Napoli è più o meno come andare a giocare nella Juventus, nella testa di un giocatore, ma comunque una società importante, no? E appunto però nel Napoli non ha il successo che spera. Lui gioca 15-16 partite nel Napoli in quell'anno, niente di che, finché non viene ceduto in prestito al Torino. Gioca molto, gioca anche abbastanza bene, quindi dice, magari posso giocare l'anno dopo nel Napoli di Sarri, perché Sarri voleva il trequartista, magari nel Napoli di Sarri posso giocare bene. Gioca anche lì qualche partita, qualche stralcio di partita, una ventina di partite le gioca, finché comunque, ragazzi, non riesce ad esplodere definitivamente. Napoli segna un gol solo rispetto agli otto del Torino, quindi non esplode, ragazzi, non esplode come giocatore. Viene mandato poi all'Empoli, all'Empoli però, alla fine l'Empoli non lo acquisterà definitivamente, sebbene comunque richieda il suo acquisto definitivo, ma retrocedendo, se non mi sbaglio era retrocesso all'Empoli, quell'anno sì, retrocedendo non riesce comunque ad acquistarlo, e il Caduri alla fine sparisce dal panorama italiano, sparisce dalla Serie A e va a finire nel Pauk a Salonico, dove si trova in questo momento. Il Parma adesso è tornato appunto su di lui e sta per acquistarlo. Si parla di tre anni e mezzo di contratto, titolo definitivo, 500.000 euro di stipendio per lui, insomma queste sono le cifre, non male, secondo me è un bel colpo, ma partendo dal presupposto che ci ha rifiutato qualche anno fa, complice magari perché era troppo giovane, complice il fatto che magari aveva un procuratore che gli stava montando la testa, insomma è normale che un giocatore dica cazzo c'è la Juventus rispetto al Parma, il Parma è settimo, la Juventus è sempre prima, io voglio andare alla Juventus, non voglio andare a giocare nel Parma. Però capisci bene che anche io, tifoso del Parma, se mi vedo uno che mi rifiuta dicendo guarda io preferisco andare di là piuttosto che venire da te e ormai gli dico allora sti cazzi non ti presentare mai più, è un po' come quando ci provi con una bella ragazza, questa ragazza ti rifiuta per un altro perché è un riccone, perché è uno pieno di soldi e di qua di là, poi quando questo riccone la smolla subito lei ti torna da te e dici no ciccia col cavolo che torni da me, vai vai prendi pure dell'aria. Noi invece ovviamente i nuovi dirigenti del Parma, perché adesso non sono più i vecchi dirigenti, magari con l'epoca Ghirardi avrebbero pensato in uno stesso modo, ma i nuovi dirigenti del Parma non gliene frega niente di come ragionava qualche anno fa il Caduri e quindi giustamente lo stanno acquistando. Però io da tifoso sbagliando e sono consapevole di avere una mentalità sbagliata dal suo punto di vista non sono d'accordo per il suo acquisto perché te mi rifiuti una volta, la seconda ti scanti, ti rifiuto io. Io la penso in questo modo, un po' come la Roma con Malcom, ecco se vogliamo fare un esempio. Però sono consapevole che è un ragionamento sbagliato, perché comunque un giocatore di 28 anni, 29 anni quest'anno, che ha ancora tanto da dare al calcio italiano, buoni piedi, insomma potrebbe essere un bel acquisto. E tra l'altro un acquisto a titolo definitivo e non un vecchio di 32-33 anni come siamo abituati ultimamente, a lista gratuita o in prestito, ecco cose di questo tipo. Non lo so ragazzi, io vi ho detto come la penso, fatemi sapere in un commento qui sotto voi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un saluto, ciao da Papyrus. PS ragazzi, scusate, mi ero dimenticato perché avendo registrato due volte questo video mi sono scordato di dire una cosa importantissima. Vi dicevo, nel momento stesso in cui il Caduri filmerà il contratto e diventerà un nuovo giocatore del Parma, per me sarà un nuovo giocatore del Parma, quindi io lo tratterò come qualsiasi altro giocatore del Parma e sarò contento che possa indossare appunto la maglia, la divisa della mia scuola del cuore. Sarò contentissimo perché è un giocatore del Parma e lo rispetterò e lo difenderò come qualsiasi altro giocatore del Parma che indossa la maglia del Parma. Ovviamente deve però dimostrarmi di sudare per la maglia, è normale che sia così. Chiedo scusa ragazzi per questo post-critum, ma mi sono ricordato adesso che non l'ho detto nel video di adesso, ma l'ho detto nel video precedente, quindi scusatemi.